Linda, figlia di Elio, Cerchio e Seno attraverso NT, 27 aprile 2014, a cura di Dario Ragusa. Linda, figlia trapassata di Elio. Io auspico che tutti voi possiate procedere nella crescita spirituale, anche se ora dovete soggiacere ai vincoli della materia. Queste esperienze sono preziose proprio per questo. Voi dovete essere consapevoli di quanto siete privilegiati. Sappiate fare veramente tesoro di tali esperienze. Ricordate sempre la parabola dei talenti. I doni che vengono profusi dalla Divina Providenza devono essere ben gestiti. Grazie. 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 Grazie.